Siamo in nuovissimo video su Battlefield 1 Nella serie di Battlefield 1 Siamo su Corsa Insieme a Alle Aldi Mi stanno già andando male Siamo con L'assalto Che mi sono appena preso il Lancia Razzi No io sto camperando Mi stanno bombardando Mi stanno Siamo con gli attaccanti Noi si stiamo con gli attaccanti Ecco 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 Abbiamo fatto la bomba Oh vabbè Curami Bravissimo Mi hanno curato Grazie dottore Io bene Ragazzi mi hanno detto Nel video scorso di Battlefield Mi hanno detto che I video Praticamente di Conquista Sono troppo Lunghi È troppo Conquista È troppo lunga E quindi Io ho detto Allora non posso neanche fare Non posso Eh no no Io avevo Avevo fatto anche Conquista E mi hanno detto Che era troppo lunga Nei commenti E allora Vuol dire che farò Corsa E poi E poi E poi E poi Altre cose Più 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 lente Vedete Vivo Nei commenti 20 Un mese Un mese Un mesetto No no Mi sa che sono tutte persone Che ho conosciuto Ok Quindi No Ho metà la maschera Quindi Mi hanno detto Da fare corsa E quindi Mo ve la sto Proporendo Se vi piace Mettete Ragazzi Arriviamo a 5 like Portano un nuovo Episodio di Di Battlefield Cioè Non ve l'ho portato Perché non era Molina di a 5 like Quindi non me l'ho Voglio portare Però a parte Che mo mi sto Annoiando Perché mi hanno dato Pure la prima Manità su Rainbow Vale la pena Che pure ci gioco A Battlefield Un po' E vi porto Qualche video Voi spolliciate Sempre Porco Ci curano Ci curano Ci curano Ci curano Ci curano Vedete La mia squadra È troppo forte Comunque Cioè Siamo troppo forti Via Bomba inescata Ah Allora Bomba a B C'è Vado Io invece Stavo 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 A proteggere I miei amici Stavo Lo so Lo so Mo scoppia Mo scoppia Leva Leva Lezi Che muori Sette Ok Ok Puri La mia squadra Ragazzi Ragazzi Se vi piacciono Vi piacciono I video Di Rainbow O di Butterfield Che così Mi regolo Se farne Di più Di quello Di più Di quell'art Che scrive Tutto nei commenti Vai 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 Bada Kill No Bada dietro C'è il dottore Mi debbero curarmi Dove giro Uno E' stato morto Il dottore Vabbè Quindi Manca uno Eh Per forza C'è quello che mi spavano Oh che grande Ho chiuso la porta Madonna raga Fate una strage 3 kill Stai una piazzata Stai una piazzata Ok Una piazzata Abbiamo armato L'obiettivo Bravo Questa granata È tutta bella Sì Infatti Sì Ho fatto tre partite Sempre inglesi Vabbè Non è capace Ah ok Vabbè Comunque Parla sempre inglese Quindi alla fine Ci sta sempre Sono un coglione Sono un coglione Atenzione Ok Ok T'acchiamo L'obiettivo Grazie Grazie dottore Oddio No Stava venendo Il dettore Vabbè Ci sono Dai Mancano 5 6 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 7 7 7 Ho detto No c'era buio Tanto quando Ho visto Quando Sì Quanti sono Questi Però vabbè Stiamo tenendo Stiamo Stiamo Giocando Bene Cioè Non so Quanto Sto Quanto Lungo Quanto Lungo Sto Avvenire Il video Ma Quando Finisce Eh Infatti Il massimo Lo tagli Cioè Tagliato Però Se Tutta Roba Di Che Cioè Mentre Gioco No Non posso Tagliarlo Infatti Mi è riuscito Un video Quando Ho fatto Il primo video Di Cascere Di Cacci Terroristi L'ho Fatto Ho fatto Il video Non mi ha Io pensavo Io mi sono messo A fare un botto Di cacci Terroristi Pensando che Usciva troppo Piccolo Invece Un gigante No Hanno 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 Innescato Una bomba Ragazzi Intanto Vi voglio Ricordare Che Eh Non uso la Telecamera Perché Non mi piace Usare La Mentre Faccio Vito Telecamera Quindi Magari La Usa La Perché Magari La La Usa La Usa Però Per Fare Live Però Per Fare Video Magari Su Rainbow Si La Usero Vedo Come Si fa Perché Stasera Lo Sera Non ci Sono Gioco Fino Alle 16 Gio Si Perché Poi Gio Vede Gio Mi Fede Bella Filisil Ma Questo qui Non era Il mio Amico C'è Questo Questo Qua Si Questo Qua Era Il mio Amico Però Questo Qua Era Il mio Amico Però Quello Di Prima No Ho fatto Una strage Ho fatto Quanti sono Più Pizzato Si Una bomba È andata Una bomba È andata Una bomba È andata Non me Non me Non me Non me Non me N'è Raccorto Scoperto Adesso Dai Ci possiamo Fà Eh ma Ci rimangono Pochi Uomini È andata È andata È andata E' andata Eh ma Non ci sta Però Non ci danno Altri soldati Poi Soltanto Riusciamo A Ci danno E' andata Si distruggiamo Ma se Morri Non riusciamo A distruggerlo E finiscono I uomini E' Più Perso Eh Più Perso Allora Non ci avremo Mai Non ci avremo Mai Madonna Felice Ho salvato La vita Ti ho salvato Dai 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 Sì Dai 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 Difendiamo 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 No Siamo troppo pochi Ciò facciamo No Sono morti Tutti Sono morti Eh Stavate Sine Scazi Ciò Facciamo Infatti Il nemico Ha disarmato L'obiettivo Bravo Abbiamo perso Quattro Tre Due Uno Zero Eh Eh Con due Non mori Zii Non andrà troppo Catti Uno Vi ho perso Basta Non è impossibile Che non mori Un uomo Infatti Eh manco io Manco io E vabbè Eh vabbè 5 su 10 La meta L'abbiamo Fatta Quindi ragazzi Abbiamo fatto Un quarto d'ora Di registrazione Credo che Va bene Spero che Il video Vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo Like Commentate Iscrivetevi E quindi Vediamo se abbiamo preso La battle pack Noi abbiamo presa Quindi Bella Ciao